Musica Nelle sale del castello del Malconsiglio di Milionico ritorna lo spettacolo itinerante, la congiura dei baroni, l'intreccio del potere, dell'Ensemble Teatro Instabile con la regia di Giuseppe Aranoia. Siamo nella seconda metà del XV secolo nel sud Italia ed è inevitabile lo scontro tra Corona e Baronia, tra il re Ferrante d'Aragona, figlio di Alfonso V il Magnanimo e i baroni detentori di un potere locale presso i propri feudi. Lo spettacolo è l'epilogo di una serie di laboratori attivati a Milionico che hanno garantito partecipazione e coinvolgimento della comunità, aspetto sul quale insiste l'amministrazione. Dopo due anni finalmente torna la nostra rievocazione storica. Come sapete abbiamo iniziato un percorso itinerante di racconto della congiura dei baroni, ma la rievocazione storica ha tutto un altro sapore per i cittadini e per i turisti. Siamo soddisfatti, si può fare molto molto di più, siamo contenti del grande afflusso di pubblico, questo significa che è mancata questa rievocazione nella provincia di Matera e soprattutto le persone ne avevano bisogno, anche noi avevamo bisogno di ritornare un po' alla normalità. Sicuramente l'amministrazione comunale continuerà nel suo percorso di puntare sempre di più sulla sua storia identitaria. La congiura dei baroni chiaramente è parte di tutta la nostra storia e della strategia su cui dobbiamo puntare per lo sviluppo del castello e di tutta la cittadinanza. Ma dopo questa sera possiamo dire che ogni anno questa rievocazione deve continuare sempre di più con il coinvolgimento dei cittadini, come avete visto, con i tamburini o con gli attori. Ci sono attori e musici locali, quindi deve diventare sempre più dei milioni chiesi che devono professionalizzarsi e poi portare la loro professione all'esterno. Grazie a tutti.